Quello che si temeva per fortuna non si è verificato. Non c'è stato nessun atto deliberativo da parte della regione sulla centrale elettrica. A rassicurare tutti sono stati il presidente Luciano D'Alfonso, il vice Giovanni Lolli e l'assessore Andrea Gerosolimo che in un incontro questa mattina all'Aquila hanno respinto l'accusa di essersi venduti alla SNAM in quanto hanno ribadito la loro contrarietà sia alla centrale che al metanodotto e si sono impegnati a non ritirare il diniego e a chiedere al governo la riapertura del tavolo sulle alternative. Presenti i comitati cittadini per l'ambiente, il sindaco di Sulmona Peppino Ranalli e i consiglieri comunali di minoranza Mimmo di Benedetto ed Alessandro Luci che hanno esposto le ragioni della forte opposizione del territorio alla realizzazione dell'opera. Il governatore D'Alfonso ha spiegato di aver scritto al sottosegretario, alla presidenza del consiglio dei ministri Claudio De Vincenti con una possibile apertura verso la centrale elettrica solo per evitare una decisione immediata sul via libera che ci sarebbe stata dietro la mancata disposta della regione lasciando così intendere che si è trattato soltanto di una manovra per allungare i tempi. Nel frattempo la regione garantisce precisi impegni. Ad una proposta nella quale si cercherà di discutere con il governo in ordine a tutte le possibilità ambientalmente compatibili con quelle del territorio di Sulmona ma il nostro obiettivo naturalmente, la nostra preoccupazione che abbiamo chiesto al presidente è quello di interrompere questa procedura che vediamo proprio all'epilogo. Si è arrivati a due possibili ipotesi, due possibili proposte che la regione potrebbe fare. Una è la proposta che è stata formulata dal vicepresidente Lolli e che sostanzialmente dovrebbe essere incardinata in questo modo, cioè fermo restando che la regione Abruzzo non rinuncia al no all'intese che già ha detto, quindi mantiene ferme le delibere già adottate. La regione Abruzzo è disponibile a discutere eventuali ipotesi migliorative rispetto alla centrale di compressione e quindi a seguire la procedura che questo comporta. Non siamo d'accordo sulla seconda parte, nel senso di riaprire la discussione con il governo e con la SNAM unicamente sulla centrale di compressione. Io credo che alla fine prevalga il buon senso, intanto la posizione della regione è sempre quella contraria ad ogni tipo di infrastruttura, sia essa gas che elettrica ed è stato questo espresso attraverso una delibera di giunta del 18 novembre scorso. La regione ha dato dunque la sua parola, ma rimane il rischio che la presidenza del Consiglio dei Ministri possa andare avanti calpestando tutti. Se la presidenza del Consiglio vorrà imporre con un atteggiamento dispotico e antidemocratico, calpestando la Costituzione e la legalità democratica, vuole imporre quest'opera a tutti i costi, noi utilizzeremo insieme a quelle istituzioni che decideranno insieme a noi di continuare a lottare, utilizzeremo tutti gli strumenti democratici.